Come si dice, tu getti l'arenza e pesce a bocca, senza che tu faccia nulla. Ovviamente la copertina Uomo dell'Anno, che Libero ha dedicato la Meloni, ha suscitato scandale e indignazione. Dove? Presso Palazzo Figi? No, dalla sinistra. Ma cosa gli importa a loro? Comunque, una copertina può piacere o non piacere e c'è diritto di critica. Ma la critica più incredibile che viene fatta è da sinistra che dicono La Meloni dovrebbe arrabbiarsi con Libero perché la copertina è sessista. Ora, a me sembra che tutto si può dire della Meloni, ma non è una persona che le manda a dire. Adesso che la Meloni si debba arrabbiare a comando della sinistra, mi sembra un po' troppo pretenzioso da parte di questi qui che non riescono neanche a fare l'opposizione. Non dico la Meloni, allora la fanno ai giornali, essendo incapaci di farla alla Meloni. Allora, carissimi, voi potete dare i vostri suggerimenti alla Meloni su come governare e io dubito che vi ascolterà, ma è il vostro diritto. Ma francamente, dirà la Meloni quando deve offendersi, quando deve essere contenta e cosa deve fare con Libero, potete anche risparmiarvelo. Buon anno e che il 2024 vi porti consigli.